Elly Schlein è la nuova segretaria nazionale del Partito Democratico, Chantal Bonprezzi è la nuova segretaria regionale dei DEM. Questo il doppio responso delle urne delle primarie del Partito Democratico che ha visto domenica recarsi alle urne 24.000 elettori marchigiani di centro-sinistra, dei cui 6.500 della provincia di Pesaro-Urbino. Il dato nazionale incorona con un 53,8% di preferenze Elly Schlein che nel pesarese è stata sostenuta apertamente da esponenti PD quali il presidente della provincia Giuseppe Paolini. La Schlein vince davanti al 46,2% di Stefano Bonaccini, a sua volta dichiaratamente appoggiato dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Proprio Ricci attraverso un post ha applaudito la vittoria della Schlein sottolineando come questo sia il risultato di elettori che vogliono un PD ancora più a sinistra. Particolare e non indifferente, nella città di Pesaro Bonaccini è invece il risultato preferito di misura alla Schlein. Dalla segretaria nazionale al voto per quella regionale, Chantal Bonprezzi è stata eletta come nuova segretaria PD delle Marche. La 32enne ex assessora di Senigallia e oggi consigliera comunale d'opposizione ha battuto in quattro province su cinque il vice sindaco di Cerretodesi Michela Bello Maria che ha avuto più preferenze solo ad Ascoli Piceno. Proprio la Bonprezzi venerdì scorso era a Pesaro nella conferenza di presentazione di adunata le urne. Provincia pesarese in cui la Bonprezzi ha vinto di misura per circa 200 voti. Grazie. Grazie.